Ringraziamo a proposito il centro commerciale Maremonti nella persona del direttore Federico Lensi che vuole in quest'area così inconsueta cercare di organizzare eventi anche culturali dove poter fare scambio e cultura Loro sono le bravissime e bellissime Ibi al Cubo Allora io le accoglierai ancora una volta con un grandissimo applauso, ci accompagneranno in questa giornata di festa Ibi al Cubo Grazie 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 per la visione